Giorgia! Sì, papà? Mi aiuto a decidere cosa mettere dentro la valigia? Va bene, sì. Che dici? Lo prendo il phon? Ma che ci fai? Poi a te non serve. Sempre umana lei. Vabbè, tranquillo, comunque non serve neanche a noi, in camera c'è. Ce lo portiamo invece il tostapane? Ma che ci fai? Abbiamo la colazione inclusa e mangeremo sempre al ristorante. Facciamo così, la valigia la finisce mamma. E tu pensa a portarti una buona fotocamera. Ma quella così piccolina? Io pensavo di portarmi un bel banco ottico. Poi ingombrante, eh? Che pazienza che c'ho. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, che abbiamo noi prima di andare a Genova. E così cantava nettamente meglio di me Paolo Conte. Ma effettivamente con la mia famiglia sono andato proprio a Genova, con un caldo pazzesco. E mi sono portato dietro proprio la piccola Canon EOS R10, la neonata mirrorless APS-C con baionetta RF, che quindi può essere utilizzata con le ottiche delle sorelle maggiori R3, R5, R6 e R7. Ha un corpo in realtà più grande del ormai pensionato M50, ma si impugna decisamente meglio, specialmente per me che ho la mano una. Comunque, nonostante me l'abbiano fornita con il 18-150mm, con il quale arriva a pesare 729 grammi, batteria e schede di memoria inclusi, risulta effettivamente portabilissima. Io ci ho aggiunto l'accetto da polso della Peak Design e via. Rispetto all'M50 ho apprezzato alcuni evidenti miglioramenti, come le barre dell'audio sempre visibili, fondamentali per il vlogging, e come l'autofocus che ricorda alcune prestazioni quello dell'R6. Quindi, se il soggetto si muove, lo aggancia al volo e lo mantiene a fuoco. Guardate questo ritratto degnese. Ho scattato appena l'occhio destra fatto capolino da sotto il braccio. E che dite? Perfetto! L'autofocus è poi altrettanto efficace anche nelle riprese video. E lo resta, anche se stiamo registrando, in 4K. Purtroppo, se passiamo da 4K25 a 4K50, il crop diventa fastidioso. Arriviamo a 1.56x, una vera lente di ingrandimento. A proposito dei spiaceri, impossibile non citare l'assenza della stabilizzazione a livello sensore. Certo, c'è quella ottica, ma non basta poter fare belle riprese mentre si cammina. Insomma, il gimbal rimane sempre una soluzione obbligatoria quando deve fare delle belle camminate. Volendo si può attivare la stabilizzazione elettronica, ma va giustamente a ritagliare sempre di più l'inquadratura man mano che aumenta la sua efficacia. Inoltre, si nota il suo intervento nelle situazioni di forte contrasto. Come potete vedere, in queste riprese incontroluce dentro la biosfera, dove le foglie hanno i bordi tremolanti. L'ottica, comunque, di suo si comporta molto, ma molto bene. A 150 mm è un f6.3, ma non tremate di paura, perché se si gioca bene con le distanze tra il soggetto e lo sfondo, allora un bel bocce è servito. Come potete vedere in questo ritratto di Agnese. Mentre, alla minima focale, l'apertura è f3.5 e permette di lavorare bene anche se c'è poco luce. Aiutata dall'elettronica, che è bella fresca e restituisce ottimi risultati anche salendo di ISO. Qui si è dovuta spingere fino a 6400, in quest'altro ritratto a luce di candela, resa davvero ottima. Certo che i 150 mm, che diventano equivalenti a 240 mm, considerando il fattore crop 1.6x, permettono di fare riprese altrimenti impossibili. Guardate qui la differenza tra i 29 mm equivalenti e per l'appunto i 240 mm equivalenti. Questo permette anche di andare a rubare ritratti alle mie bimbe, che sanno che sto fotografando, ma qui non se ne sono minimamente accorti. Oppure, sempre grazie a 240 mm, gli alberi delle navi al tramonto possono regalare veri effetti. Wow! In generale mi sono trovato benissimo, fin del primo momento, con questa Canon EOS R10. Pensate che l'ho utilizzata per registrare un'analisi dell'attrezzatura video del mio maestro di batteria, Bernardo Grillo, neanche 24 ore dopo che l'avevo accesa per la prima volta. E mi raccomando, ragazzi, sostenetemi sempre con i soliti mi piace, iscritti e campanellina attiva, che ne vedrete a breve davvero delle belle sul mio canale. Poi, se lo sapete, io sono pignolo e alcune cose mi hanno infastidito. Innanzitutto il pulsante MFN, davvero minuscolo e collocato in una posizione scomoda, così come lì dietro il pulsante lock, che è una cosa da macchina professionale, qui ha poco senso, ma soprattutto si confonde con il pulsante registrazione video. Mi sarebbe poi piaciuto avere a disposizione l'appena annunciato 15-30 mm, l'hanno annunciato prima che partissero le vacanze, perché nei selfie il 29 mm equivalente ti fa essere un po' troppo dentro l'inquadratura. Inoltre, anche chiudendo il diaframma F5.6, mi è successo che non tutti i volti fossero a fuoco. Guardate questo selfie famiglia in cui per l'appunto solo il volto di Agnese è davvero a fuoco. Ma torniamo un po' alla domanda iniziale. Ha senso portarla in vacanza? Per me assolutamente sì. L'avete visto nel montaggio? Mi sono portato a casa degli splendidi ricordi di questa vacanza. Ma ho voluto fare un paio di ragionamenti a tema con voi sfruttando i sondaggi di Instagram. Mi raccomando ragazzi, seguitemi come gianluca.bocci. La prima domanda che ho fatto è vi siete portati o vi porterete una fotocamera in vacanza? E qui innanzitutto c'è da dire il bello delle risposte e l'onestà che avete messo. 15 di voi, ma solo un 6% mi hanno detto che non ho una fotocamera e grazie a su Instagram mi seguono tutti quelli che sono appassionati di fotografia. E il grosso di voi effettivamente ha scelto quello che giustifica una macchina come R10. Il 41% ha detto mi porto la più piccola con una sola ottica. Ed ecco che lei, vedete la tengo con due dita senza il minimo problema fa effettivamente la differenza. Ma è anche bello vedere che un 34% ragazzi, uno su tre ha detto mi porto uno zaino con tutto il corredo. Ed ecco vedete come tutte le passioni vuol dire un fardello da portarsi letteralmente sulle spalle. Sì, se abbiamo insomma un bel corredo con 3-4 ottiche tutte schiaffate nel nostro zaino. Mi raccomando sempre il treppievi. Ma comunque un 19%, quindi uno su cinque ha dato la risposta più onesta lascio tutto a casa uso lo smartphone. Quando uno è in vacanza quando si vuole effettivamente rilassare ecco che comunque una fotocamera può essere un impegno io direi anche uno stimolo per me portarmela dietro è stata una cosa stimolante. Mi ha detto Gianluca perché non fai anche quella foto? Quella foto in più che magari soltanto per metterla su una storia su Instagram non avrei fatto. Qui cambia il discorso. Ma la seconda domanda secondo me è ancora più stimolante. Tornati delle vacanze cosa fate? Allora tre opzioni è bellissimo qui ragazzi effettivamente vi voglio bene vuol dire che davvero seguite quello che vi dicono i miei video rivedo tutte le foto faccio il backup fondamentale ci ho fatto n video vi rimando qui sopra l'ultimo dedicato al mio sistema archiviazione e stampo le migliore bravi ragazzi vi voglio bene perché stampare le foto è una cosa importante quando scegliamo le migliori così valutiamo in cosa siamo riusciti a cogliere un bel momento una bella luce una bella inquadratura una bella esposizione della nostra fianzata moglie e figlia e soprattutto riusciamo a capire in quanto siamo migliorati come fotografo perché quella foto stampata è la foto effettivamente che premiamo però ci sono stati due gruppetti invece che hanno detto il 12% ne ho fatte troppe non mi va di rivederle e questo ragazzi vi devo fare un applauso perché siete stati onesti un problema della fotografia è che essendo digitale butti qui dentro una scheda da 64 giga e vai fotografi tutto quello che vuoi e poi le rivediamo ma questo essere eccessivo nello scatto succede anche con lo smartphone anche lì rischiamo di fare migliaia di foto e dimenticarle un secondo dopo che le abbiamo scattate infatti la terza risposta è quella più preoccupante non le rivedo ho già pubblicato il meglio molti di noi fanno le foto soltanto per farci una storia per farci uno status su whatsapp per farci un tiktok una volta finito è già dimenticato questo è triste però al di là di questo ragionamento che vi ringrazio andiamo un po' a tirare le somme qui ovvero a vedere quelle che sono le pagelline innanzitutto cos'è che mi piace ovviamente i primi due punti sono dimensioni e peso ottime prestazioni eccellenti prestazioni messe in un corpo e un'ottica effettivamente che non ingombrano troppo e che non pesano troppo quindi non sono zaino che ci spacca la schiena un'altra cosa che mi è piaciuta è che effettivamente l'ho visto registrando il video insieme a Bernardo Grillo lo vedrete a breve è una vera macchina da vlogger il display completamente orientabile ecco qui così ma rivedete anche il mio gobbo permette di riprendersi l'autofocus non diventa un problema le barre audio ci aiutano insomma tante cose che permettono di fare vlogging davvero molto bene mi è piaciuto per l'appunto l'autofocus era già buono nella vecchia piccolina l'M50 l'hanno reso ancora più performante e quindi così non è più una preoccupazione mi posso concentrare su quello che sto dicendo non su quello che sta facendo l'autofocus ultima cosa ovviamente importante la qualità immagine sia nelle foto sia nel video l'avete visto in questo montaggio invece cos'è che non mi è piaciuto due cose ve l'ho già detto alcuni tasti insomma ha davvero tanti tasti bellini si impugna bene ma la zona vicino al tasto di scatto è troppo affollata e quel tasto MFN e quel tasto lock creano problemi ammetto candidamente di aver perso alcune clip video perché ero sicuro di aver premuto il tasto REC Mari col braccio teso braccio lungo non guardavo invece no aveva premuto il tasto lock mannaggia ancora più mannaggia la mancanza del sensore stabilizzato l'Ibis e fa tanto perché l'Ibis che troviamo Mari sulla sorella maggiore l'R7 essendo su 5 assi aiuta tanto fa quello che la stabilizzazione solo sull'ottica non ci riesce mi spiace di Canon che avrebbe potuto fare davvero una macchina vlog perfettissima con l'Ibis sarebbe stata davvero una bomba perché se passiamo l'R7 gli ingombri e il peso cominciano a aumentare un po' troppo bene ragazzi spero che questa mia avventura a Genova dove ho mangiato tantissimo infatti mi sono ingrassato il taglio qui l'ho salvato vi sia piaciuto come il racconto di questa piccolina che porta Canon ad avere un'unica baionetta quella RF e infatti non vedo l'ora di vedere le vere ottiche dedicate alla PSC su baionetta RF insomma ragazzi seguitemi che ne vedrete delle belle ciao a tutti e al prossimo video